Ciao artisti, questa settimana vi presentiamo un nuovo inchiostro arrivato in casa Body Supply, Nocturnal Inc. Nocturnal Inc. è stato formulato da Franco Vescovi e poi testato per due anni dal leggendario Jack Rudy. Il loro scopo era di creare un inchiostro più scuro e più facile da sfumare, ma che fosse simile al Talents e al Pelican, usati entrambi nell'industria del tatuaggio da oltre 30 anni. Era molto importante produrre un inchiostro che non disponeva di alcuni solventi chimici duri che si trovano in altre marche di inchiostri per tatuaggi. Per cui l'inchiostro Nocturnal ha solo tre ingredienti che sono pigmenti organici, alcol etilico e acqua sterilizzata. Nocturnal Inc. ha prodotto un set di sei inchiostri di bottiglie da 30, 60 o 120 mm e sono Nocturnal Inc. ha lo stesso pigmento base di ogni altro inchiostro e, proprio per questo, puoi utilizzarlo senza paura anche su tatuaggi esistenti. Per acquistare Nocturnal Inc. basta andare su bodysupply.com o cliccare il link qui in basso. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo. Ciao artisti! Ciao!